Buongiorno, oggi faremo un'intervista al signor Gianluca Ranzan, l'intervista si chiama un trainer per volare. Siamo qui, come ho già premesso, con Gianluca Ranzan, un educatore e parro trainer, per parlare di un argomento che sempre più attira la curiosità di chi possiede un pappagallo esotico o un uccello esotico. Parliamo quindi, come già detto prima, di pappagalli e nello specifico delle ara, quindi delle ara rauna, delle cloroptere, ma anche di altre specie come possono essere cenerini e cagadua. Una delle prime domande che le vorrei fare, signor Ranzan, è ma quando parliamo di volo libero, meglio conosciuto a livello internazionale come Free Fly, che cosa, o meglio, qual è il ruolo di un parro trainer? Il parro trainer deve necessariamente essere quella persona, quel professionista che insegna la comunicazione al proprietario, che per me è un compagno umano, al proprio pappagallo. Pertanto il trainer, l'educatore è quella persona che dà gli strumenti comunicativi corretti al proprietario per comunicare, per rendere il quotidiano facile, bello, gioioso nel rapportarsi correttamente con il proprio animale. Qualche attimo fa ho detto volutamente compagno di viaggio, perché per quanto mi riguarda l'animale pet, che sia cane, ma tanto più nel caso di un pappagallo che vive per molti anni con noi, non può essere che un compagno di viaggio, appunto. Pertanto mettere in comunicazione due esseri viventi altamente sociali come l'umano con il pappagallo è molto importante la comunicazione corretta, che necessariamente è diversa, ma pur sempre molto importante. Un'altra domanda che le vorremmo fare, perché spesso e volentieri non tutti sono consapevoli quando acquistano un pappagallo, di che cosa stanno acquistando, è cosa vuol dire gestire un pappagallo? O meglio, come gestire almeno un pappagallo? È una domanda molto articolata, perché la gestione corretta di un pappagallo può essere per l'aspetto comportamentale e quindi per l'aspetto educativo, interagire correttamente nel quotidiano, quindi l'entrata e l'uscita dalla gabbia, piuttosto che l'aspetto sociale con tutte le persone della famiglia, che ricordiamoci sempre per il pappagallo noi siamo il suo stormo. Altro ancora è l'aspetto alimentare, quindi la corretta alimentazione, pertanto sono più percorsi che sarebbe importante conoscere per una corretta gestione del pappagallo all'interno delle nostre case. Quindi queste possono essere già due problematiche, la gestione del pappagallo e l'alimentazione corretta del pappagallo, con le quali un proprietario di pappagallo può rivolgersi a un parotrainer o un comportamentista. Certo, certamente sì, certo, anche se personalmente ritengo che molto spesso le problematiche comportamentali che noi dobbiamo molto spesso incorrere con i nostri pappagalli, spesso provengono da una cattiva alimentazione. Ecco, passiamo ora a parlare di free fly o volo libero, meglio conosciuto in Italia con la parola di volo libero. Oggi tutti a livello di web, soprattutto per quanto riguarda il discorso degli affezionados, quindi dei vari gruppi social di cui soprattutto Facebook è pieno, sono incantati, innamorati nel vedere questi meravigliosi uccelli che volano. Ma se io venissi da lei, signor Ranzan, e le facessi questa domanda, posso far volare il mio pappagallo libero nel cielo. Lei cosa mi risponde? Se ricevesse una telefonata di questo genere direi, vediamoci, facciamoci una chiacchierata, perché in realtà se tutti i pappagalli possono volare, e tecnicamente tutti i pappagalli possono volare in quello che si dice open space all'aperto, non tutti i pappagalli in realtà possono essere addestrati, ribadisco, addestrati al volo libero. E soprattutto non tutti i compagni umani possono vivere l'emozione di vedere il proprio pappagallo volare all'aperto, in open space, appunto, nei cieli. Quindi, da quello che lei mi sta dicendo, si evince che non tutti i proprietari di uccelli possono far volare i loro compagni. Certamente sì, ha capito benissimo, perché non tutti i proprietari hanno la pacatezza, il sangue freddo di riuscire a gestire le proprie emozioni. Ricordiamoci che vedere il proprio compagno di viaggio, il proprio pappagallo, soprattutto nei primi voli, non è semplicissimo. E gestire le emozioni dei primi voli, che c'è sempre l'ansia che il pappagallo si possa allontanare, è abbastanza forte. Quindi, possono esserci dei dischi nel volo libero? Certamente sì, ci sono. Ne ne vuole parlare? Ci sono e nessun trainer potrà dare la certezza matematica che non ci siano o che il pappagallo non ritorni. Il pappagallo noi sappiamo che è una preda. Di conseguenza, nel momento in cui si spaventa necessariamente il suo comportamento ancestrale, il suo comportamento naturale, qual è? È la fuga. Certamente è un pappagallo che ha ricevuto un percorso di addestramento e che conosce molto bene il richiamo, sarà molto più facile da recuperare che non un pappagallo che inavvertitamente è scappato da una porta o da una finestra, che non ha ricevuto ovviamente l'addestramento al richiamo. In questo caso sarà più difficile recuperarlo, a volte anche impossibile. Bene, questo già dovrebbe in qualche modo chiarire ai futuri interessati, compagni, in questo caso mi rifaccio la sua parola, umani del pappagallo, di che cosa è un cammino educativo, didattico, verso il volo libero. Ma torniamo a parlare di uccelli, quindi di pappagalli, perché a noi ci preme molto riuscire a far capire che uno degli obiettivi principali dell'associazione il pappagallo in volo che lei rappresenta è la tutela del pappagallo, degli animali in genere, perché non ci fermiamo solo al pappagallo, ma nello specifico proprio i pappagalli. Ed essendo anche una delle voci di cui ne parlavamo prima nel fuorionda, molto importante, di cui si occupa l'associazione e quindi la tutela non solo del pappagallo in sé, ma la diffusione e l'informazione sull'importanza del volo, ed è questo anche che ha fatto nascere l'associazione pappagalli in volo, mi viene da farle spontanea una domanda, ma per lei che è un trainer e che lavora con i pappagalli da vent'anni, quanto è importante per un uccello nato in cattività volare. Importantissimo, noi potremmo discuterne per ore, forse non ci basterebbe mezza giornata discutere l'importanza del volo per un pappagallo, potremmo discuterne per l'aspetto muscolare, potremmo discuterne per l'aspetto proprio psicologico dell'animale, ma ricordiamoci che molto spesso non viene considerato il fatto che il pappagallo è nato con le ali, pertanto è un comportamento naturale per il pappagallo, per questo è importante, anche un pappagallo nato in cattività, il volo è un modo di spostarsi naturale. Prima abbiamo parlato delle controindicazioni del volo libero, per arrivare ovviamente ad avere degli ottimi risultati, io compagno umano, a monte devo capire bene alcuni passaggi, che non sono solo ovviamente la costanza, l'impegno, la perseveranza e tutto quello che tramite i suoi corsi, che ricordiamo avvengono su una piattaforma Skype o live, quindi presso la sua sede, il pappagallo in volo o lei personalmente a casa dei compagni umani, dicevo è importante che il compagno umano capisca bene che cosa significa educare e che cosa significa addestrare. Ci vuole brevemente chiarire questi due concetti? L'addestramento per me, anzi, l'educazione per me è quel percorso base che tutti i papagalli dovrebbero ricevere, non fare ricevere, ed è quel percorso in cui io insegno al mio amico l'entrata, l'uscita dalla gabbia, il salire o lo scendere dalla mano, l'aspetto sociale anche proprio per tutto lo stormo e quindi il vivere in un modo paritario ma felice, sereno, costruttivo. Il percorso invece di addestramento è un qualcosa molto più ristretto, con dei confini molto più ristretti in cui io necessariamente ho la necessità di un background, di un ritorno del comportamento che chiedo all'animale. Perché? Perché nel momento in cui io faccio del free fly, del volo libero in esterno, ho necessariamente la necessità di avere un papagallo con delle risposte veloci, quindi una grossa motivazione in questo caso al comportamento del volo e soprattutto una grossa motivazione al ritorno verso di me, come si ottiene attraverso un grande rapporto di feeling e di fiducia del papagallo nei confronti del compagno umano. Quindi nel momento stesso in cui io prendo un papagallo, io in questo caso rappresento la voce di tante persone che vorrebbero farle delle domande e non è il mio caso, ma nel momento ripeto, in cui io, ipotetico futuro compagno umano di un papagallo, innamorata di tutti questi meravigliosi video che si vedono su internet o anche di quelli che lei quotidianamente posta e che oggi in Italia è l'unico come parro trainer a fare visualizzare e questo mi viene da dire chapeau perché ci mette la cosiddetta faccia ovviamente. La domanda che mi faccio è ma guardando questi video e seguendo un po' qui e un po' là le cosiddette io ho fatto così, io ho fatto cosà, ma io posso da sola arrivare a far volare il mio papagallo? La risposta è ni, nel senso che ci vuole molta esperienza. Cioè io posso prendermi il mio papagallo e se ho molta fortuna mi faccio un mio percorso personale detto percorso fai da te e se sono fortunato che ho un papagallo con altissima ricezione magari mi può andare bene. Ovviamente da educatore, da trainer, da coach consiglio sempre di farsi seguire. Perché? Perché l'esperienza che un educatore acquisisce è nel numero. Quindi vuol dire che se io mi prendo in carico il papagallo e il suo compagno umano in un percorso di addestramento al volo libero ho dalla mia la grossa esperienza numerica in cui dire ok questo papagallo qua vedendo quanto è portato a volare facciamo questo percorso educativo e attraverso una serie di esercizi che noi insegniamo al papagallo a volare riuscirò a capire come professionista quando è il momento giusto, quando il papagallo è pronto, quando il papagallo è sufficientemente demotivato per essere sganciato, quindi tolta la pettorina e provare a far volare il papagallo completamente libero. Tenete presente che è molto importante questo passaggio perché fin tanto che io faccio volare il mio papagallo con un cordino, con la pettorina ho la certezza che il papagallo non mi scappi e ovviamente do la sicurezza anche al papagallo di volare appunto in sicurezza senza la possibilità che possa scappare o farsi male. Quindi a tappe di imparare quello che sarà anche per il papagallo stesso un percorso. Certamente sì, step by step, passo dopo passo, fino ad arrivare al punto in cui diciamo ok questo papagallo è pronto, ha acquisito sufficienti strumenti di volo, lo mettiamo alla prova. Quindi tutto quello che noi vediamo dal punto di vista tecnologico, utilizzando i social, vedendo youtube, vedendo anche alcuni soggetti diciamo così fai da te, dobbiamo guardarli sempre con le dovute distanze anche perché le tecniche per insegnare il volo libero sicuramente, o free fly, sono sicuramente molto molto diverse da quelle che un improvvisato trainer fai da te può in qualche modo, magari per fortuna o così insomma perché le è capitato un animale particolarmente mansueto è riuscito ad ottenere, ma vi sono poi visionando e visualizzando e di questo la ringrazio perché lei prima fuori onda ci ha fatto visualizzare dei filmati in cui mi palesava molto bene quello che è un atterraggio fatto in un determinato modo, un recall fatto in un determinato modo da quello che è il fai da te. Quindi mi precisava molto bene il discorso rapporto fiducia compagno che non è la base sulla quale iniziare perché lo diamo per scontato che sia quello, ma è il fine attraverso il quale il proprietario del pappagallo sa con la quasi totale certezza che il pappagallo tornerà. Per quale motivo? Nei video in cui mi ha fatto visualizzare prima lei mi diceva ecco vede questo è un pappagallo che si è fermato sull'albero ed è in attesa e il proprietario lo sta chiamando ma non ritorna. Le motivazioni possono essere tante in mi verrebbe così giusto per dire quella di più importante è la paura per esempio un pappagallo è in volo si ferma su un albero perché si è spaventato. Normalmente si fermano su un albero con paura nel momento in cui questa paura si dissolve quindi una mancanza anche di un percorso corretto di desensibilizzazione il compagno umano sotto lo chiama un po' alla volta il pappagallo si rilassa e quindi ritorna dal compagno umano scusate. Altro motivo invece potrebbe essere anche un cattivo percorso di addestramento quindi di motivazione al volo. In questo caso bisognerebbe maggiormente lavorare sull'importanza che io come compagno umano e quindi dare più motivazione ad arrivare da me. Io le dico grazie signor Ranzan è stato un piacere oggi parlare di pappagalli parlare di educazione del significato che ha la parola trainer perché spesso e volentieri viene se non sottovalutata magari fra intesa. Credo di essere stata insomma esaustiva nel porre queste domande e altrettanto lei nel darci queste risposte. La pregherei visto il grande interesse che ultimamente sta riscutendo il discorso volo libero di farmi una promessa e quindi una seconda intervista dove possiamo intanto la ringraziamo per averci ospitato qui presso la sede della sua associazione e appunto facendo questa seconda intervista o anche una terza perché no continuare a dare delle risposte alle tante domande che le assicuro noi come canale social mondo pappagallo ci impegneremo a cercare nei vari gruppi pappagallari. Grazie mille. Grazie a voi e grazie ancora. Buongiorno. Grazie a voi.